Sì, è l'ultimo. Io. Come andate a lavorare? Bene, bene. Sei finato bene, sento buone vibrazioni. Ripassi. Sento stima. Stima tanta, poi però non vendo una mazza, che per fortuna hai trovato mia sorella. Ma non può durare per molto. Bravo! Bravo! Tiramisù fantastico! Sprevitoso. Un tiramisù lo fa la mia moglie, è molto molto buono. Così, così... E andiamo! Ti sto chiedendo soltanto di tradire mia sorella. Stai scherzando? No. È una del lavoro, te la fai per due giorni, non è poco. Sabato e domenica. Ma non avevi messo un condizionatore nuovo tu? Quello che ho preso a rate? Eh. L'ho dovuto vendere per pagare rate. Allora? Andiamo avanti molto? No, scusa che è un momento così magico che... Sì, sì, magico. È un fuoriclasse. Lo chiamano il Messi delle supposte. Dove lo pari di champagne, per favore? Oggi pomeriggio devi andare dal presidente nella sua casa in montagna. Una bella battuta di calcio nella mia proprietà, va? Chi ve l'ho? No, Antonio non c'è fuori. Sì, è un convegno medico. È il Chישo che rollerού? Sai di sate non sa più cosa è la felicità. È successo qualcosa, te? Non ricordo più che es amore alla felicità. NON пару diesel. Grazie a tutti.